Sabato 13 giugno. Il mare dentro. Inaugura l'estate 2015. Con Movida Latina parti in piscina e talent show. Tre piste. House commerciale 708090. Latina caraibica. E Movida Talent Show seconda edizione ricco di spettacolo. Ma dove? A Bari Palese, via dello speziale. Uscita via nazionale C. Tuffati con noi in piscina con Movida Latina. Per info e prenotazioni, prive e tavoli 342 388 4551. Sabato 13 giugno. Il mare dentro. Ti aspettiamo. Evento sponsorizzato Xen. Ente sportivo nazionale riconosciuto CONI.